Friday night is Christmas night! Let's see you all on the floor! Come on! Fai bei sogni. Sono orfano di madre. Avevo 9 anni quando morì. Ciao Massimo! Voglio vederla. Non può essere andata via così senza neanche salutarmi. Si sta male di nuovo. Telefoni a una persona che le è vicina. Può essere lei questa persona? Se lei fosse ancora qui... il sé è il marchio dei falliti. In questa vita si diventa grandi nonostante. Non lo so quanto hai sofferto. Perdiamo d'altro. È tutta la vita che parliamo d'altro. No! Va bene a 10 anni. Ma a 20. A 30 anni. A nessuno è venuto in mente di prendermi da parte e dirmi la verità. A nessuno. Non lo sofferto. 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 Grazie a tutti.